Lavoravano per tre ore all'ora nelle campagne di Marsala e di Mazzara del Vallo, ricevevano pane duro a pranzo e a cena, venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno. Queste quanto erano costretti a subire diversi lavoratori immigrati clandestini e regolari reclutati da due agricoltori marsalesi, padre e figlio di 68 e 35 anni, arrestati oggi dalla Polizia di Stato di Trapani. I due sono finiti ai domiciliari su ordine del GIP di Marsala con l'accusa di sfruttamento della manodopera aggravato e in concorso. Il giudice ha disposto anche il sequestro preventivo di due vigneti e di un vasto oliveto di proprietà degli arrestati, dove venivano fatti lavorare gli immigrati. Le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, sono durate sei mesi e hanno accertato che i due caporali sfruttavano gli immigrati facendoli lavorare non solo nelle loro aziende, ma anche mettendoli a disposizione di altri agricoltori di Mazzara del Vallo e di Marsala. Quasi ogni mattina andavano a prelevarli con le loro macchine e li portavano nei campi per fare la vendemmia e la raccolta delle olive, della frutta e della verdura. Sono state le intercettazioni e le telecamere messe dagli investigatori a inchiodare i caporali. I due arrestati facevano rapide contrattazioni con gli immigrati sulla paga oraria, sulle ore di lavoro e sul cibo e decidevano quale lavoratore impiegare. Chi faceva troppe storie sul compenso e sul cibo veniva subito scartato. Dalle indagini della Polizia è emerso che gli arrestati sfruttavano la manodopera almeno da tre anni, facendo turni di lavoro massacrandi che iniziavano dalle ore 5 del mattino. Tre euro era la paga oraria massima oltre il mangiare, cioè il panino e i due caporali davano ai lavoratori come pasto della giornata, non sempre previsto se la paga era un po' più alta. Spesso però il pane era duro e scarso, per questo motivo alcuni degli immigrati sfruttati si lamentavano, chiedendo almeno del pane più morbido e più grande. I lavoratori si rivolgevano ai due uomini chiamandoli padrone e questi a loro volta li chiamavano con i nomi della settimana. Giovedì era uno degli uomini sfruttati, gli immigrati venivano prelevati da un capannone nelle campagne di Marsala, dove vivevano in pessime condizioni igienico-sanitarie. O erano reclutati direttamente nei centri di accoglienza per migranti, i terreni sequestrati dalla polizia saranno confiscati dallo Stato perché utilizzati per compiere il reato di sfruttamento della manodopera.